Un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere che batte il ferro finché è caldo e vi fa uscire un video a stretto giro da quello precedente perché? Perché ammetto che è un argomento che avevo in canna per così dire, da un po' di tempo perlomeno da Luca Comics. Perché? Perché a Luca Comics ho avuto modo di incontrare amici, compagni compagni di merenghe e di quant'altro nonché ho trovato anche gli amici della Bao con cui ho un buon rapporto e mi hanno detto ma noi non abbiamo mai capito noi, la persona con cui ho parlato io non l'ho mai capito perché ci parliamo anche dei rispettivi gusti di fumetti. Perché non hai mai parlato di questo specifico fumetto qua? Perché io lo vedo molto nelle tue corde e dico guarda caro amico Bao onestamente non mi ci sono mai messo e poi adesso vi spiegherò anche il perché guarda, senti, noi abbiamo fatto uscire l'ultimo volume proprio da poco dacci un'occhiata perché secondo me invece ci stai dentro va bene ho dovuto dare ragione, mi sono poi preso tutta la serie vi parlo di qualche mossa tattica Black Science di Ray Kremender, Matteo Scalera e Dean White per i primi numeri e poi Moreno Dinisio sul colorista poi vi farò appunto una parentesi particolare perché appunto Black Science non mi ha preso? io quando uscì il primo numero in lingua originale gli avevo dato una sfogliata perché comunque prometteva bene partiamo dal presupposto che è una testata image e le testate image tendenzialmente la image è partita dall'essere il terzo polo del fumetto supereroistico americano quando negli anni 90 gli enfant prodige dell'epoca Todd McFarlane Jim Lee Rob Liefeld Jim Valentino Eric Larson si staccarono dalle grandi major per creare un qualcosa di loro sfruttando quelle che erano le mode dell'epoca che avevano anche creato loro il sacchettismo per esempio chi non segue Doc Manhattan non sa di cosa parlo peggio per loro è partita dall'essere questa cosa al diventare un un editore la cui varietà di titoli e la qualità dei titoli fanno quasi sempre uscire piccoli capolavori anche perché gli autori essendo le storie della image quasi tutte creator owned cioè di proprietà dell'autore quindi l'autore il progetto è suo i creatori sono anche un pochettino più invogliati a produrre quello che potrebbe essere il fumetto lasciato nel cassetto per tanti anni e gli autori come si dice il il cast degli autori era di tutto rispetto perché Rick Remender io l'avevo imparato a conoscere in una durante il periodo Marvel Now ebbe una parentesi molto prolifica nel nell'universo Marvel penso a oddio Capitano America al ciclo di Uncanny Avengers Uncanny X-Force soprattutto andò un pochettino a calare su Axis non so se ve la ricordate bruttina come saga speciale della Marvel comunque un autore di tutto rispetto avevamo come disegnatore Matteo Scalera Matteo Scalera ha questo tratto grottesco un pochettino caricaturiale però efficacissimo ipercinetico una versione un pochettino più pulita passatemi il termine di di Sean Gordon Murphy oppure mi viene in mente oddio Canete Eric Canete insomma è di quella scuola lì in cui non vado a farti la figura anatomica classica ma vado ad andare sul Deformed però sull'ipercinetico su una costruzione della tavola perfetta su questi personaggi caricaturiali potenti di impatto con questi con questo questo gioco tra il bianchi e i neri molto potente il bilanciamento insomma dei neri della tavola insomma un autore di tutto rispetto però io quando ho letto la prima la prima il primo numero in lingua originale non sono andato avanti e io purtroppo sulle testate nuove che non sono di personaggi che già conosco sono un pochettino superficiale se non riesci a portarmi in barca al primo giro difficilmente ti do una seconda possibilità sono sono un amante pretenziosa che vi devo dire comunque e in realtà adesso a ragione adesso rileggendomi tutta la serie forse ho capito qual era il problema che non è neanche un problema è più che altro una questione di gusto mio è il colore dei primi albi allora a colorare i primi numeri della serie c'era Dean White che non è un coglione intendiamoci è uno che sta dando lezioni a tutti per quello che riguarda il colore digitale che aveva già collaborato in una testata di Remender a me mi pare mi pare proprio anche anni ex force i disegni mi pare fossero di Jerome Jerome o Pegna comunque è uno che sa il suo mestiere e che tende a vedere il colore digitale in una maniera più pittorica prendetelo con le con le con le con le pinze questo termine che utilizzo no e secondo me su scalera che come vi posso dire nelle sue tavole già mi pare di ricordare dai toni di grigio con i pantone secondo me appesantiva un po' la lettura questo è un mio gusto personale ad esempio nei numeri successivi quando a colorarlo è l'italiano moreno di nisio per me riesce ad essere molto più efficace perché è una colorazione un pochettino più essenziale un pochettino meno pittorica Dean White tende ad arricchire i disegni di chi c'è sotto mi ricordo che faceva questi colpi di luce con il bianco sulle figure di di Opegna su scalera secondo me non funzionava come doveva ma non perché non è bravo semplicemente sono due bravi diversi che non 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 è bravo più bravo fa sempre bravissimo cioè non so spiegarvi comunque moreno di nisio secondo me valorizza di più le tavole di di scalera e quindi poi dopo ho detto va bene diamogli sta seconda possibilità anche perché il mio inglese non sempre è eccelso magari anche un pochettino mi ha ostacolato la lettura il fatto che non leggessi nella mia lingua e devo dare ragione perché effettivamente è una serie a cui controcoglioni che parte con un'immagine in testa che potrebbe venire ad alcuni di voi guardando un pochettino i primi numeri il cast dei personaggi che è quella di Lost in Space perché un pochettino ricorda questa famiglia alla deriva dello spazio che capita in mondi alieni di vario tipo ecco soltanto apparentemente c'è questa somiglianza con Lost in Space io ci ho visto personalmente una somiglianza molto più forte con un'altra serie tv non Lost in Space ma Lost e basta perché come in Lost noi partiamo a vedere il mondo che è Black Science attraverso gli occhi di un protagonista che è Grant McKay che è l'equivalente del Jack di Lost e almeno inizialmente noi vediamo il mondo filtrato dal suo punto di vista e vediamo i comprimari filtrati dal suo punto di vista e vediamo la situazione in cui è filtrato dal suo punto di vista lui è l'oblò per i nostri occhi per vedere quello che c'è fuori il mondo di Black Science e siamo tendenzialmente abituati a pensarlo come all'eroe al protagonista che quindi deve essere un eroe e invece andando avanti così come in Lost scopriamo che ci sono altri personaggi di significato anche per certi versi maggiore di quelli del protagonista ideale che è Jack così come in Black Science scopriamo che Grant McKay è solo uno dei vari personaggi attraverso i quali vedremo il procedere della storia i numeri in alcuni casi sono addirittura tematici per cui ci sono dei capitoli della storia che sono filtrati tutti attraverso gli occhi di un personaggio poi dopo nel numero successivo vedi il punto di vista dell'altro personaggio quindi la voce narrante dell'altro personaggio e così come in Lost Jack non è un eroe e neanche gli altri suoi compagni di viaggio anche in Black Science si parla di personaggi irrisolti di personaggi non tagliati con l'accetto con l'accetta non sono dei caratteri letterari ben definiti l'eroe l'antagonista sono dei personaggi che fanno delle cose discutibili il protagonista Grant McKay come vi dicevo non è tutto sto stinco di santo anzi in alcuni casi lo vedi anche sotto una chiave negativa e così anche gli altri personaggi la sua collega amante Rebecca Pia e Nate i suoi figli che capitano anche loro nel viaggio Kadir che dovrebbe essere il villain poi in realtà scopri che è sì un villain ma in alcuni casi puoi anche parteggiare empaticamente con lui e questo gruppo assolutamente come si dico di mi viene da dire disomogeneo però in realtà non è quello che intendo dire vabbè mi verrà il termine si trova in una situazione più grande di loro ovvero a viaggiare per le dimensioni perché Grant McKay ha scoperto con la scienza nera cioè l'equivalente della magia nera la scienza oscura la scienza proibita ha scoperto il pilastro e il pilastro cos'è? un meccanismo è uno speciale marchigegno che permette di viaggiare attraverso la cipolla citando vagamente Giulio Verne la cipolla cos'è? è la struttura del multiverso invece di viaggiare nello spazio lui viaggia attraverso le dimensioni dimensioni in cui ci sono delle cose simili alle nostre in cui siamo radicalmente diversi in cui magari è soltanto un piccolo particolare che ci differenzia e al centro della cipolla cosa c'è? c'è quello che i personaggi definiscono il concetto più vicino a quello di Dio ovvero il mondo primigenio che con ogni suo avvenimento con ogni sua variabile crea gli infiniti strati che compongono la cipolla e quindi le varie infinite dimensioni non sono altro che delle variabili che partono da questo universo primigenio mettiamola così oltre a essere appunto una serie fantascientifica che va a ridisegnare un pochettino i concept della fantascienza perché intendiamoci non inventa nulla reinventa però e reinventa molto bene nel senso che parecchi cliché narrativi della fantascienza dei viaggi del tempo dei viaggi dimensionali quello che volete qua vengono rivisti in maniera intelligente da parte di Remender oltretutto con una creazione grafica da parte di scalera incredibile perché riesce Matteo scalera riesce a proporti un'infinità di mondi senza diventare mai banale senza mai diventare cliché ma anzi sapendo reinventare quello che c'è già e poi appunto tutto questo con filtrato con gli occhi di personaggi che tanto sono grotteschi nel modo in cui sono disegnati tanto sono caricatoriali nel modo in cui sono disegnati tanto sono umani reali e quindi più assimilabili più vicini a noi che leggiamo così come in Lost il flashback aveva un'importanza fondamentale per capire il perché un personaggio fa una determinata azione la stessa cosa succede con Black Science qua vediamo che il passato dei personaggi di Grant di Rebecca di Sarah il rapporto che c'è tra i due genitori appunto Grant e Sarah e i due figli Pia e Nate va a influenzare quelli che sono il modo di ragionare dei due figlioli tutto questo rende il viaggio dimensionale molto interessante al pari del viaggio che fanno i personaggi nella loro maturità nel loro crescere mi viene sempre in mente il concetto di viaggio dell'eroe un libro che a sua volta prende spunto dalle ricerche di Campbell l'eroe dei mille volti comunque il discorso del viaggio dell'eroe che non è tanto il viaggio fisico quanto la parabola di avventure di ricadute di rialzi che il personaggio ha nella crescita che per avere una crescita all'interno della storia ecco questo è un esempio eccelso di di tutto quello che vi sto raccontando in Italia è uscito appunto come vi dicevo con la BAO 15 euro il volume se non sbaglio 14 in alcuni casi il lavoro della BAO qua è stato eccellente a parte il fatto nella qualità degli albi perché comunque carta buona ahimè lì non è colpa della BAO ma è colpa del tempo becco di Lucca uno purtroppo mi si è rovinato perché ha piovuto che Dio la mandava un pochettino mi si è rovinato il 9 vabbè ma niente di che la capacità a parte il fatto anche vabbè poi tutto il lavoro di traduzione perfetto un'edizione veramente eccellente una cosa che mi ha colpito molto è che la capacità di rendere in maniera molto fedele all'originale il lettering appunto dell'edizione originale che è un lettering che si sposa bene con il tipo di disegno e il fatto che sia stato trasportato in maniera fedele anche nell'edizione italiana impreziosisce ancora di più questa testata che vi posso dire di più a me ha entusiasmato e mi sono stupito vi faccio vedere soltanto una cosa tutti i volumi perché poi sono partito da un volume che avevano loro lì in fiera e poi mi sono presi tutti ecco qua questa è la serie completa che appunto la BAU ha terminato più o meno nel periodo di Lucca mi pare ottobre novembre io mi sono stupito dalla velocità con cui li ho divorati ma veramente non vi dico una cagata perché era anche in un periodo in cui magari non avevo tantissima voglia di leggere cose così invece ho dovuto dare retta al signor vabbè lo posso dire una signora alla signora BAU che mi ha consigliato questa questa opera e ve la consiglio io altrettanto vivacemente quindi Black Science Rick Remender Matteo Scalera Dean White per i primi numeri e poi dal terzo volume oddio vuoto di memoria oddio dov'è il terzo mi sono accorto adesso che non c'ho il terzo vabbè poi dopo lo cerco comunque dal terzo volume con Moreno Dinisio ai colori fateli questo regalo io adesso vado a scoprire dove cacchio ho lasciato il terzo in realtà quindi c'è anche ora un volume in più rispetto a quello che vi ho fatto vedere fatevi questo regalo e provatelo perché secondo me merita veramente veramente tanto poi magari voi i colori di Dean White vi stanno bene a me più vedo le tavole del primo numero più ammetto che forse era quello la cosa che non mi ha fatto andare avanti poco male perché poi sono andato avanti e ho scoperto una gran bella serie fatemi sapere cosa ne pensate per adesso è tutto tendi gare cose che si scho' gatti scho' gatti scho' gatti scho' gatti Grazie.